avete mai osservato la gente giocare a bullying ebbene molti inscenano un piccolo rituale prima di lanciare la palla in direzione dei birilli con attenzione allacciano le scarpette e poi inizia la caccia alla palla perfetta qualcuno indossa un apposito guanto o un tutore per il gomito mentre si avvicinano alla pista lanciano occhiatacce ai birilli e si mettono in posizione poi si fanno avanti e lanciano la palla lungo la pista è qui che diventa interessante mentre la palla rotola verso i birilli il giocatore inizia a dispiegare una serie di espressioni facciali e del corpo e gesticola per guidare la palla nel migliore punto di impatto sui birilli se vede la palla allontanarsi dalla traiettoria perfetta inizia ad impartire comandi vocali per correggere la rotta naturalmente una volta lanciata è andata e non c'è nulla che il giocatore possa fare per cambiare il corso degli eventi potrebbe semplicemente lasciare la palla girarsi e nemmeno guardare l'impatto il risultato sarebbe lo stesso morale del discorso è inutile preoccuparsi dei risultati quando hai impostato correttamente i tuoi obiettivi e hai pianificato l'azione che devi intraprendere è uno tempo di tempo e di energie preoccuparsi delle ripercussioni di ciò che hai messo in moto come dice ziglar quando esegui un'azione è come lanciare una palla di bullying la palla dei risultati sta rotolando e c'è poco da fare per cambiare il punto d'impatto preoccuparsi non migliora la situazione perché i risultati saranno il frutto di quanto bene ti sei preparato di come hai pianificato e portato a termine l'azione la preoccupazione rischia di diventare una paura immaginaria che ci fa pensare a cosa potrebbe accadere di terribile nel futuro ecco che preoccuparsi è un modo improprio di utilizzare l'immaginazione in quanto la preoccupazione genera il pensiero negativo e se sei invischiato nel pensiero negativo non ti puoi aspettare di realizzare i tuoi progetti allora invece di immaginare cose brutte che potrebbero accadere in futuro inizia ad immaginare delle cose che filano lisce e se ti senti intrappolato da pensieri brutti a volte il semplice movimento fisico allontana dalla tua mente da un pensiero negativo e ti aiuta a correggerlo c'è una vera e propria strategia psicologica che consiste nel ripetere a se stessi oggi è il mio giorno oggi è il giorno giusto qualcosa di buono sta per accadere incoraggia te stesso non ti preoccupare dei risultati pensa positivo il pensiero positivo ci consente di fare tutto meglio rispetto al pensiero negativo cosa penseresti di una squadra di calcio ai cui giocatori sono convinti di perdere prima ancora che inizi la partita generalmente riceviamo da noi stessi e dagli altri proprio ciò che ci aspettiamo se ti aspetti di perdere allora è probabile che perderai c'è un detto nella vita trovi quello che cerchi se cerchi cose belle le troverai se cerchi amici e collaboratori positivi li troverai e allo stesso modo se cerchi dei motivi per giustificare la separazione dal tuo coniuge li troverai e se cerchi sempre l'autogratificazione il compiacimento l'auto celebrazione allora sarai infelice perché qualsiasi cosa tu abbia non sarà mai abbastanza ecco che è importante cosa cerchiamo beh se sappiamo anche cosa cercare allora la gioia arriverà cosa produce gioia e felicità intanto diciamo che se sei ingrato non sarai mai soddisfatto della tua vita la più grande fonte di felicità è la capacità di essere grati in ogni momento e allora diciamo che l'atteggiamento negativo è una malattia del cuore mentre un atteggiamento positivo produce gioia genera la pace interiore perché l'atteggiamento positivo produce bontà produce altruismo gentilezza amore queste sono le qualità che dobbiamo ricercare in noi stessi per realizzarci e poi sbagliare solo non provandoci allora immagina credici e provaci perché per vincere devi osare e osando aver fede nella vittoria ma non vinci se sei egoista vinci se ti adoperi per gli altri in bocca al lupo grazie grazie grazie